La figura dell'intellettuale, l'intellettuale moderno, questa figura trova incarnazione, potremmo dire come quasi un personaggio emblematico, nella persona di Voltaire. Voltaire appunto modifica, potremmo dire, quella che è la domanda filosofica che la filosofia consegna fino all'età di Voltaire, la domanda sul fondamento della realtà, è una domanda che si muove verso l'originario, che domanda cos'è appunto il principio, il fondamento, l'origine, la domanda ontologica, come dicono tecnicamente i filosofi. Ebbene questa domanda ontologica che guarda retrospettivamente e quindi in qualche misura guarda il passato, è una sorta di movimento retrogrado, in Voltaire si trasforma, potremmo dire, in una domanda che ci è estremamente familiare, è la domanda di che cosa significa il tempo in cui viviamo. Voltaire ci dice la domanda sul presente è la domanda essenziale a cui l'intellettuale risponde in che senso, nel senso in cui appunto noi dobbiamo analizzare il presente per spiegare le forze che in qualche misura ne compongono la struttura. Questa azione continua di Voltaire sullo stato delle cose costituisce un esempio, potremmo dire, che diventerà paradigmatico, di quel ruolo dell'intellettuale in cui si collocherà un certo modo di fare filosofia. In questo senso quindi Voltaire inventa una certa figura del filosofo moderno.